Nuova stagione del teatro nuovo, come sarà quest'anno? Ci saranno 31 spettacoli, sono spettacoli che variano in diverse categorie, dalla prosa alla musica alla danza, family show e anche cultura e spettacolo. Infatti in cultura e spettacolo è un settore nuovo che abbiamo introdotto quest'anno e ci sarà Vittorio Sgarbi che ci racconterà, l'anno scorso ho raccontato il Caravaggio, quest'anno racconterà Michelangelo. Nella prosa saranno sei spettacoli, tra i più importanti o perlomeno più conosciuti diciamo ci sarà una festa esagerata con Vincenzo Salemme, poi il 2 con Raoul Bova e la Chiara Francini. Seguirà Ambra Angiolini con La guerra dei rosis tratto dal libro molto famoso scritto con la regia di Danny DeVito che è stato fatto nel 1989, che racconta della borghesia, una famiglia borghese americana. La musica non manca, abbiamo un grande personaggio, un grande interprete che è Salvatore Accardo, un grande violinista, penso uno dei maggiori violinista del Novecento. Dopo Uto Ugi che abbiamo avuto l'anno scorso, chiudiamo lo spettacolo concerti con violino, appunto con Salvatore Accardo. Un altro spettacolo che mi sento di sottolineare è uno spettacolo territoriale, dove tra l'altro io ne firmo la regia, che è uno spettacolo con una band di Ferrara, tutta ferrarese, che l'anno scorso ha portato il tributo a De Andrè, è stato un successo, la sala era piena e quest'anno facciamo lo stesso progetto con un altro cantautore che è Lucio Dalla. La band si chiama Controcanto e sarà il 3 marzo. Che scelta è stata fatta? Qual è il pubblico che volete catturare, insomma, in questa città? Siamo un teatro in cui vogliamo crescere, vogliamo attirare i giovani e puntiamo su un pubblico giovane. Abbiamo bisogno di gente che viene a teatro, nel senso che noi siamo un teatro privato, quindi il nostro unico sostegno è il pubblico. Quindi noi confidiamo nel pubblico, cerchiamo di crescere molto e abbiamo finito la stagione da poco, siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo ottenuto e cerchiamo quest'altro anno di fare dei numeri importanti.